Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video vi spiegherò come ottenere un albero di stelline, quindi come avere l'albero, come piantarlo, come raccogliere appunto le stelline dopo 4 giorni invece dei frutti. Per fare questo, per prima cosa dovete procurarvi una pala. La pala ve la dà Blatero, il gufo che arriva sull'isola, dopo che avete donato un certo numero di insetti ed avete collocato la sua tenda. La pala, come gli altri strumenti, può rompersi e può essere migliorata. Per prima cosa dovete appunto procurarvi una pala, dopodiché dovete trovare un punto luminoso sul terreno. Ovviamente è random, quindi compare a caso e in un giorno a caso e in un momento della giornata a caso. Cioè, praticamente voi esplorate l'isola e potrebbe capitarvi di imbattervi in un punto luminoso. Quindi, fatto questo, scavate per prendere un sacchetto di monete. Ora, avete due possibilità. O, diciamo, riscuotete il sacchetto e poi lo depositate per avere appunto l'albero del denaro, che crescerà qui e quindi, diciamo, dopo 4 giorni potete raccogliere i sacchettini. Oppure, con la pala scavate e, come potete vedere, avete preso la pianticella albero di stelline, che potete piazzare dove volete. Quindi, la prima cosa da fare è trovare un punto luminoso. Con la pala scavate, prendete il bottino, dopodiché seppellite il bottino per avere la pianticella albero di stelline, che potete far crescere sul posto o prelevare con la pala e, diciamo, piantarla altrove. Ad esempio, potete piantarla a casa vostra. Quindi, andate a casa. Io ho già una pianta di stelline, che è questa. Quindi, ne piazzo un'altra qui, ad esempio. Quindi, faccio pianta. E, tra 4 giorni, questa pianta sarà diventato un albero tipo questo e avrà dei sacchettini di stelline, invece che dei frutti. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e, per qualsiasi domanda, non esitate a lasciare un commento.